non lo mangia da per terra poveri tiene sinello tranquillo tranquillo ok ciao sinello adesso cosa facciamo mangiamo i lupi che sono il numero 14 14 no no giornatino allo zoo quali sono i lupi quello che è il numero eccolo il lupo europeo 40 pronto che facciamo quando incontriamo i lupi diciamo amiche che stai facendo cade dodì attenta ci sta salutando ciao ci metta è come spider man è come te la cimiettina pronti zainetto ce l'ho io eh oh the place for the weekend ok piace lion a casa per i prossimi giorni farà ci sono pure due mucche che bello c'è pure spiderman che bello ah è un posticino in campagna è tipo una fattoria bellissimo dove passeremo il weekend in relax oh questa sarà la mia postazione ah che bello ciao qua si pranza oggi oh mamma mia bagnetto ghiacciato ho fatto un anno che diceva ma quello che sta a fare a mezz'ora in quel modo io ho detto me urge la cataratta subito oh sono morto quando l'ho vestito e avevo come si dice grazie veramente importanti temperatura a quanto li va a arrivare arriva a 36 gradi a 36 possono andare in toscana è carpaccio è quello che state mangiando grandissimi ragazzi fate il raffronto a quanto deve arrivare non mi chiedete perché persino non lo so buon morning dodosh rimaneteci vedecelo io Prendere quelli Questa è la situation Che beautiful E-bike Andiamo a Poppy Io non ho idea se si brucia qualcosa Queste vigilette ma penso proprio che no Pantani Guarda davanti Cipollini Non sono molto esperto Pantani era uno dei più forti Bello comunque Molto bello Allora Questo primo posto interessante raggiunto con la e-bike Castello di Poppy Ma Mary Ah già al bar Abbiamo fatto un chilometro e mezzo Già andiamo al bar Stanchi Va bene dai Io direi cornetto a marmellata Adesso ce sta Vabbè dai Ciao bancone Grazie a tutti Grazie a tutti ... Grazie.